Ciao a tutti, io sono Chiara, sono qui insieme a Riccardo Ciao, ciao Riccardo Abbiamo finito il logito E allora come ti sei trovata? Andata, molto bene, come sempre perché non era la prima esperienza appunto con Riccardo Avevo già comprato tramite lui tre anni fa, giusto? Sì, sì E adesso per esigenze di lavoro ho dovuto appunto rivendere Però io mi sono sempre affidata a Riccardo perché sapevo per andare sul sicuro Grazie E quindi è andata tutto bene Cos'hai trovato di diverso in me è chiaro? Sia l'altra volta che hai comprato che anche adesso con la mia vita facciamo quello che hai scontato Sei sempre stato molto disponibile, molto presente in tutti quanti i passaggi Ovvio che col tempo si fa sempre più esperienza Quindi ti ho trovato ancora più competente di tre anni fa ovviamente Bene, bene Quindi sono contenta Adesso purtroppo vai in trasferta, fuori dalle mani Esatto, esatto Se no, se no Sai già chi chiamare Ecco, ovviamente, ovviamente Dai Allora, grazie Chiara Grazie Riccardo Grazie a Riccardo Ci vediamo